Musica Bella ragazzi qui è Rusher che vi pare ed oggi son tornato con questo nuovo video Questo è il mio primo vlog Ed è anche il vlog per i 4000 iscritti Ma voi mi state pigliando per il culo No Benzo, scusi Un'altra volta ancora Mi state pigliando per il culo Non ho mai fatto un vlog quindi non so che faccia avrò mentre faccio questo vlog Perché sicuramente sarò tipo facendo facce strane Vabbè lasciamo perdere Finora non ho fatto altri vlog perché comunque ora dietro la telecamera c'è uno schiavetto che appunto sta registrando Finora non ho fatto altri vlog perché io non ho videocamere decenti Comunque ci ho provato a fare altri video Però sono usciti male quindi diciamo ora ho trovato il momento e appunto lo sto facendo Comunque appunto che dirvi mi scuso se tipo per i 1000 iscritti non ho fatto video speciali per i 2000 neanche neanche per i 3000 Per ora siamo 4000 quindi ci stava Non te vergogni Non te vergogni Tanto non te vergogni di niente Non te vergogni Fai a porca miseria E quindi appunto diciamo che ci tenevo così a ringraziarvi per questo traguardo Per questo traguardo perché comunque 4000 iscritti non sono pochi Alla fine quando hai coperto il canale? Ricordamelo tu Boh Comunque vi ringrazio per il supporto che mi state dando all'inizio perché Comunque seguite i miei video Mettete mi piace Commentate tutto Quindi senza di voi comunque non sarei mai andato avanti così Le persone da ringraziare Vabbè voi iscritti Comunque le persone che mi hanno aiutato diciamo in questo percorso sono varie Tra cui ringrazio Frax Godfrax Quello che vi mangia tutti Perché comunque Cioè ormai lo conosco da più di un anno Per me oltre che su Youtube e tutto il resto è comunque un grande amico Mi ha aiutato sì su Youtube Però appunto ripeto È un grande amico, una grande persona quindi lo ringrazio Oltre lui ringrazio anche Velox e Kree Che comunque diciamo che in qualche video così mi hanno nominato E robe del genere Ringrazio anche Anima Che conosco da meno di tutti questi altri Però comunque anche lui è una brava persona Un buon amico quindi ci tenevo a ringraziarlo Le persone da ringraziare diciamo non sono solo loro Sono anche altre però dovrei fare un listone lungo chilometri Quindi mi fermo a loro Gli altri che comunque dovrei ringraziare lo sanno E tutto qua Comunque appunto per questi 4000 iscritti volevo fare un contest Allora Non so Cioè non mi sono scritto nessuna scaletta Quindi neanche mi ricordo che tipo di contest è Comunque Dovete mandarmi un video In non elencato In cui Di sottofondo c'è una bella partita Un bel gameplay su Call of Duty Solo su Black Ops 2 Perché ormai gli altri code Non c'ha senso Mi mandate questa bella partita commentata da voi E il vincitore Appunto caricherò il video del vincitore sul mio canale Alla chiusura del contest Durerà due o tre settimane Non so la data di scadenza perché sto improvvisando tutto Però Partecipate in tanti Comunque anche se non vincerete Vi nominerò Vi metterò in descrizione e tutto quanto Quindi è anche un buon modo per ringraziarvi Per farvi un po' di pubblicità Comunque detto questo Non credo ci sia altro da dire Mi scuso se non ho guardato Neanche per un secondo la telecamera Però un po' strana come situazione Detto questo Vi ringrazio una per un'altra volta Come al solito vi invito a lasciare un mi piace Arriviamo a 300 mi piace dai Ce la facciamo arrivare a 300 mi piace Commentate scrivendo quello che volete Partecipate al contest E niente Qui da lasciare tutto Bella